È un progetto in cui noi crediamo molto perché spesso gli studenti nella loro delicata fase sono spesso attratti dal fast food senza conoscere le controindicazioni di un'alimentazione che di fatto è scorretta. Tuttavia non è che noi vogliamo demonizzare su tutto sfondo questa alimentazione ma se è proprio necessario mangiare ogni tanto si può anche mangiare qualcosa di alternativo ciò deve essere contemperato da una sana attività fisica. Quest'anno abbiamo avuto, intanto la nostra referente la professoressa Scebba si è occupata della gestione pratica del progetto mentre il professore Fiorelli dell'analisi dei dati perché abbiamo somministrato ai ragazzi un questionario che oggi daremo i risultati proprio di questo questionario e analizzandoli potranno scoprire cosa continuare a fare e cosa non fare. Col progetto Cuore abbiamo favorito alcuni congetti di alimentazione, di prevenzione alla sana alimentazione e in riferimento anche all'uso corretto dei carboidrati, delle proteine, delle sostanze presenti nella tavola tutti i giorni per favorire appunto la salute, il congetto di salute e di prevenzione di malattie cardiovascolari. Ovviamente si è puntato anche sull'utilizzo della soia, tè verde, bacche di gogi, tutte sostanze fitonutrienti che possono apportare grossi benefici all'organismo. Questo è stato uno studio appunto, un progetto, un lavoro che è stato portato avanti per quattro anni al fine di educare proprio i ragazzi più giovani e anche le famiglie e i genitori che possono contribuire a un benessere generale.